Ufficiopostale.it, è l'Italia che cambia. Prosegue la campagna di ascolto e di informazione sul territorio da parte della Regione Marche per illustrare la nuova programmazione dei fondi FESR. Si è tenuto ad Ascoli un focus sulle opportunità per il comparto agroalimentare ed è stata anche l'occasione per un confronto con gli operatori del settore ed individuare le modalità di intervento. Ci sono veramente importanti somme a disposizione e la speranza che vengano utilizzate con la presentazione di progetti che possano qualificare le imprese ma anche il territorio perché quando si muove un'impresa marchigiana si porta dietro tutto il sistema Marche. La provincia Picena, tra le cinque marchigiane, è quella in cui l'agricoltura è maggiormente diffusa ed è qui che si è parlato principalmente di ricerca, innovazione e internazionalizzazione al fine di rendere le aziende sempre più al passo con i tempi e competitive. Sono questi i punti cardini su cui si baseranno i nuovi bandi che verranno pubblicati a breve. I bandi sono quelli della ricerca industriale e dello sviluppo sperimentale ma anche dell'innovazione di prodotto, di processo e di internazionalizzazione delle imprese nei mercati esteri. L'importanza di questi tavoli deriva dal fatto che questi bandi vogliono essere calati nelle reali esigenze degli imprenditori e quindi il dialogo con tutti gli stakeholder della ricerca e innovazione è fondamentale per renderli il più possibile performanti. Il primo bando, quello della ricerca, uscirà entro il mese di marzo e inizio di aprile poi a seguire entro maggio vorremmo uscire con il bando dell'innovazione e poi a seguire ancora quello dell'internazionalizzazione.